Arrotate! Arrotate! Nulla da arrotare! Dico a voi, forestiero, avete portato niente da arrotare in questo paese. Non avete da arrotare una spada, non avete da arrotare un cannone. Non avete molto da arrotare in questo paese. Non molto di degno, non molto che valga la pena, non molto che faccia piacere. Arroterete bene dei coltelli e arroterete bene dei forbici. Coltelli, forbici, credete che esistano ancora coltelle e forbici a questo mondo? Avevo idea di sì. Non esistono coltelli e forbici in questo paese? Né in questo paese né in altri. Io giro per parecchi paesi e sono 15 o 20 mila le anime per le quali arroto. Pure non vedo mai coltelli ma i forbici. Ma che vi danno da arrotare? Se non vedete mai coltelli ma i forbici. Questo lo domando sempre loro. Che mi date da arrotare? Non mi date una spada? Non mi date un cannone? E li guardo in faccia negli occhi. Vedo che quanto mi danno non può chiamarsi nemmeno chiodo. Fa piacere arrotare una vera lama. Voi potete lanciarla? Ed è dardo. Potete impugnarla. Ed è pugnale. Ah! Se tutti avessero sempre una vera lama. Perché? Pensate succederebbe qualcosa? Io avrei piacere ad arrotare sempre una vera lama. Qualche volta mi sembra basterebbe che tutti avessero dente e unchia da farsi arrotare. Li arroterei loro come dente di vipera e come unchia di leopardo. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. 40 centesimi. 4 di pane, 4 di vino e le tasse. 4 di tasse, 4 di pane e il vino. 4 di vino, 4 di tasse e il pane. Ma perché? Non mettete tutto insieme e dividete dopo. Troppo rischioso. Qualche volta mancerei tutto, qualche volta mi berrei tutto. tenete, volevo prendervi due soldi di più. Ma addio non vuole, erano questi due soldi che facevano la confusione. due di pane, due di vino, due di tasse. Dovete scusarmi. Ho creduto di poterlo fare perché siete forestiero. Oh, non è nulla, due soldi più, due soldi meno. È questione che uno non sa come regolarsi con i forestieri. vi sono forse arrotini che fanno pagare otto soldi in altri paesi. E uno rischia di danneggiarli a far pagare sei. È bello il mondo. Immagino. Luce, ompra, freddo, caldo, gioia, non gioia. Speranza, carità. Infanzia, gioventù, vecchiaia. Uomini, bambini, donne. Donne belle, donne brutte, grazie di Dio, furberia. E onestà. Memoria. Fantasia. Come sarebbe a dire? Oh, niente. Pane e vino. Salsiccia, latte, capre. Maiali e vacche. Topi. Orsi. Lupi. Uccelli. Alberi e fumo. Neve. Malattia, guarigione, lo so, lo so. Morte. Immortalità e resurrezione. Ah. Che cosa? Extraordinario. Ah, e ho. I, u, e. Suppongo. Troppo male. Offendere il mondo. Scusate, se uno conosce un altro che gli ha fatto molto piacere conoscere, e allora gli prende due soldi o due lire in più per un servizio che dovrebbe invece rendergli gratis, dato in molto piacere che gli fa di conoscerlo. Che cosa è quest'uno? Non è un uomo che offende il monto? Oh. Grazie, amico. Uno qualche volta confonde le piccolezze del monto con le offese al monto. Ah, se ci fossero poltelli e forbici punteruoli, picchi e archibuggi, mortai, falci e martelli, cannoni, cannoni, dinamite. Grazie. 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 Grazie.